Ci racconti il match race di oggi? Oggi è stato il primo match race che ho fatto con questa classe, è stato molto bello perché il risultato ci ha dato a favore. Diciamo che è meglio della regata di flotta, nel senso che devi pensare solo a un avversario, c'è stato tanto movimento, c'è stata una collisione, due penalità, il vento che oscillava, alla fine siamo riusciti comunque a interpretare bene, a rimontare e a dare anche una penalità ai francesi, quindi è stata una bella esperienza oggi, nonostante il vento, l'acqua e tutto il resto. Rispetto al match race a cui eravamo abituati c'è un cambiamento epocale? Sì c'è un po' un cambiamento, però alla fine le regole per vincere sono sempre quelle, devi andare dalla parte giusta, devi non prendere penalità, devi essere più veloce sulla linea di partenza, devi sapere gestire tatticamente la regata, leggere il vento, ecco qui il vento lo devi leggere molto più in anticipo rispetto ai monoscafi che erano un po' più lenti, là potevi aspettare un po' di più, qui invece leggere il vento è fondamentale. E la penalità, da quello che è stato oggi, non è così penalizzante come poteva essere? Eh dipende perché a noi ce l'hanno data e poi non erano contenti e ce ne hanno ridata un'altra e quindi i francesi erano belli avanti in fondo al gate, lavorarono, non lo so, però a occhio centinaio di metri di vantaggio, poi alla fine hanno sbagliato loro il gate, sono andati a parte sbagliata e noi siamo riusciti a tornare in match e a dargliela loro dopo.